Buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, oggi è lunedì 19 giugno 2023, vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno e vediamo che il santo è San Romualdo, nato a Ravenna nel 952, morto a Fabriano nel 1027, è stato il fondatore dei camaldolesi, dal nome di Maldolo, un conte aretino che gli donò una casa e una bella selva in cui Romualdo stabilì la sua comunità, una comunità ancora presente tutt'oggi, tanto che noi la vediamo molto attiva e molto così interessata alla evangelizzazione a Fonte Avellana e a Montegiove nei pressi di Fano, questo è il santo del giorno, vediamo ora le previsioni del tempo. Ancora sulle Marche, il bel tempo, vediamo qui la grafica con il sole in tutta la regione, alta pressione sulle Marche con cielo a tratti un po' offuscato, le massime arriveranno fino a 30 gradi in pianura, venti moderati sulla costa, la direzione dei venti è quella di ovest e sud-ovest sulla costa, mentre da sud-ovest nell'entroterra e le temperature appunto si aggirano di 21 gradi e la minima 30 e forse anche un po' oltre la massima. Ed ora riprendiamo una trasmissione che facciamo solitamente d'estate, quella di parlare all'inizio appunto della rassegna stampa con i concessionari di spiaggia che sono i nostri migliori interlocutori per quanto riguarda la stagione turistica e l'ospite di oggi è Marco Mastro Giacomi dei Bagni Alda tra Torrette e Ponte Sasso. Ciao Marco. Buongiorno. Dico bene che i Bagni Alda si trovano tra Torrette e Ponte Sasso, dove si trovano precisamente? A Ponte Sasso precisamente. A Ponte Sasso. Siamo proprio a metà tra Torrette e Marotta. Senti le previsioni del tempo, a tuo parere, quelle che ho appena letto, sono veritiere? Hai la percezione che ci sarà bel tempo per i prossimi giorni? Decisamente sì, anche adesso è caldissimo, si sta bene proprio da da passeggiata, come si può vedere, bassa marea, è la giornata perfetta. Abbiamo lasciato un mese di maggio non molto favorevole tra acquazzoni, qualche bel tempo, insomma però non è stato un gran mese dal punto di vista che a giugno invece si presenta migliore, è vero? Decisamente sì, ma anche giugno, fino a metà giugno è stato un delirio, nel senso sempre tempo brutto, freddo, finalmente sembra che sia scoppiata l'estate, anche perché era ora. Certo, e allora come si preannuncia la stagione? Speriamo, crociamo le dita, che sia bella come quella dello scorso anno, l'acqua la vogliamo vedere su al fiume, no, sinceramente, non quella che viene dal cielo. Senti Marco, tra poco leggerò nella rassegna stampa un articolo che riguarda la carenza di parcheggi, specialmente vicino alle zone balneari. L'articolo puntualizza la sua attenzione in modo particolare a Torrette, ma a Ponte Sasso ci sono parcheggi sufficienti per i turisti, per coloro che frequentano le spiagge? No, assolutamente no. Tra l'altro ci sono dei lavori di fianco al rio Crinaccio, che tra tutti i periodi abbiamo scelto proprio adesso l'estate per farli, e l'unico parcheggio comunale che c'è, metà è chiuso, transennato, per fare dei lavori che cerchiamo di vedere di questi dipendenti che vengono a lavorare, perché è dai primi di maggio che non si vede nessuno, perciò, ecco, speriamo bene. Allora, sollecitiamo l'amministrazione comunale a porre la sua attenzione appunto su questa situazione, perché il turismo non avvantaggia solo i concessionari di spiaggia, ma ovviamente tutta l'economia della frazione. Grazie Marco, ci sentiremo domani per un nuovo appuntamento. Buon lavoro, buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Bene, allora vediamo la rassegna stampa di oggi, a partire dalla pagina di Fano, dove la notizia più importante è ovviamente quella che Fano TV ha trasmesso con grande evidenza e grande sforzo tecnico-professionale, devo dire, nella giornata di ieri, ovvero la nomina a Vescovo di Monsignore Andrea Andreozzi, che è avvenuta nella Cattedrale di Fermo, ma Andrea Andreozzi sarà il Vescovo della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Il Vescovo Andrea tra gioco e stelle, nel cielo la parte migliore di noi. Il titolo che riprende qualche parola che il nuovo Vescovo ha detto nel momento in cui si è rivolto ai fanesi, dopo che il Vescovo di Fermo lo ha ordinato, Vescovo appunto, presule. Duomo di Fermo gremito, per l'ordinazione di Andreozzi, nel suo saluto la gratitudine verso tutti. Era presente ovviamente una vasta rappresentanza della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. C'erano anche molti sacerdoti, circa una cinquantina oltre ai diaconi, ma tanti fedeli, oltre 200, sono partiti da tutte le località appunto della Diocesi per essere presenti a questo importante avvenimento. Non solo un avvenimento dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista molto partecipato, molto intimo da parte delle persone che si sono poi commosse. come leggeremo sui giornali le dichiarazioni del sindaco Massimo Seri, e poi anche di alcuni sacerdoti, come il vicario di Monsignor Trasarti, che ovviamente era presente alla cerimonia, Marco Presciutti, e poi anche come il responsabile della pastorale diocesana, il parroco del Vallato, Francesco Pierpaoli, responsabile, dicevo appunto, della pastorale diocesana, colpito lui dalle prime parole di Monsignore Andrea Andreozzi, che ha evocato l'immagine di un cielo pieno di stelle. Questa è stata una bella immagine che ha introdotto le sue parole. Un cielo di stelle che abbraccia e avvolge le gioie e i dolori di tutto il mondo. Un riferimento questo all'infinito, che è dentro di noi appunto, che si rispecchia con il trascendente, con il cielo. E poi ha parlato anche di dolori, perché sotto il cielo si verificano tante tragedie, come quella del grande naufragio che si è verificato nei pressi della Grecia. Vediamo altri punti che ho sottolineato nell'articolo sulla nomina a Vescovo di Andrea Andreozzi. A trasarti voglio dire che oggi le nostre due chiese si rafforzano con il tramite di Don Andrea, ha detto il Vescovo di Fermo, che oggi è guardando dal cielo la sua mamma e il suo papà e qui con noi ci sono fratello e sorella. Ha appunto evocato anche la famiglia di Don Andrea, perché questa è una cerimonia anche che investe l'intimo, che investe il personale di una persona. È vero, un familiare Vescovo certo è un'occasione importante. C'è stata poi la messa con tutta la cerimonia e ovviamente l'ordinazione con Monsignore Andreozzi piegato a terra con il Vangelo sul capo, perché appunto la parola di Gesù dovrebbe appunto permeare di sé tutto l'appostolato che il nuovo preso le farà nella nuova diocesi. Un articolo da leggere quello, perché poi il 9 luglio prossimo, il giorno prima della festa del Santo Patrono di Fano, Monsignore Andreozzi sarà ricevuto al pincio nella città della Fortuna, dove avrà la sede della sua curia. Vediamo gli altri argomenti. Abbiamo parlato prima con Marco dei bagni alda dei parcheggi, della insufficienza dei parcheggi, menzionando questo articolo che appare sul Corriere Adriatico. Sosta selvaggia sull'Adriatico, chiuso il parcheggio privato. L'amministrazione comunale è consapevole che nella zona litoranea, nella zona vicino al mare, non ci sono spazi sufficienti per fare i parcheggi. E allora che cosa ha fatto? Ha invitato i privati a mettere a disposizione i loro scoperti, le loro superfici, magari che non hanno una utilizzazione, a fare dei parcheggi e magari anche a trarre dei profitti, perché possono applicare un ticket. Solo che a Torrette il campo che veniva utilizzato in passato per essere adibito a parcheggio, ancora non lo è stato, quindi è chiuso e le macchine hanno follato la nazionale Adriatica Sud con grave timore che accadesse qualcosa per il traffico, perché già la strada nazionale è pericolosa per se stessa. Pensate come lo può diventare con file di macchine parcheggiate in ambo i lati della strada. È una cosa certo da rimediare. E poi vediamo che a Fano si è conclusa una settimana dedicata al calcio-mercato grazie alla trasmissione di Sky che è stata realizzata, calcio-mercato l'originale, che è stata realizzata all'interno suggestivo, molto bello, molto accattivante della Chiesa di San Francesco che ha avuto una illuminazione che veramente l'ha valorizzata in modo particolare. 5 giorni di trasmissioni dalle 23 alle 24, peccato che l'abbiano visto soltanto gli abbonati a Sky perché meritava veramente una divulgazione superiore, ma ovviamente questa è un'iniziativa di carattere privato e quindi lascia il tempo. Comunque che trova, ma è stata una promozione ugualmente importante per la città di Fano. Calcio-mercato, 5 serate focalizzate su Fano. E anche quest'articolo di Spalla poi evidenzia questa situazione. Un rewind fa golle congedandosi con l'intervista a Totò Schillaci, il conduttore Brecciaroli, un evento pazzesco. E vediamo qui i due protagonisti, Totò Schillaci e Luigi Brecciaroli. Giriamo la pagina, siamo nella Val Cesano, ovvero siamo a Frontone. Frontone, un paese che ha subito le conseguenze del maltempo. Il territorio è molto fragile, ha detto il sindaco Daniele Tagnani. La richiesta alla Regione e del sindaco di Frontone a rischio è l'incolumità pubblica. Il territorio è molto fragile, ora occorrono interventi strutturali. Lo ha detto durante un incontro che è stato organizzato nei giorni scorsi dalla Regione Marche con gli amministratori locali. Erano presenti anche il Presidente, Francesco Acquaroli, l'assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi e il Vice Commissario Babini. Il sindaco ha ribadito la necessità e soprattutto l'urgenza di mettere in sicurezza il Paese e tranquillizzare i cittadini. Occorrono veramente interventi strutturali perché un'invasione di acqua, come si è verificata nei giorni scorsi, insomma, non si verifichi più. E speriamo che sia veramente così. Andiamo a Senigallia e purtroppo siamo costretti a evidenziare un nuovo incidente stradale. Ne ha fatte le spese una bambina di 11 anni che attraversava la strada ed è stata falciata da una auto. Quella della scuterista è un altro incidente perché in questo articolo si parla di due incidenti. In vestita di notte portata d'urgenza al Salesi, la bambina di 11 anni, e poi in un altro schianto una scuterista centra un'auto e poi scappa. Probabilmente era lei stessa che ha subito i danni maggiori, però insomma ha trovato la forza di andare via e scappa perché sapeva che probabilmente la responsabilità dell'incidente era sua. Incidente l'altra notte in via Podesti alle Saline. Una bambina di 11 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada ed è stata portata in codice rosso alla Salesi. Per fortuna sembra che non sia in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 a prestare le prime cure. E poi il secondo incidente è avvenuto verso le 23.30 a Cesano. In questo caso chi l'ha provocato è scappato. A rendere l'episodio un po' bizzarro, devo dire, è il fatto che a fuggire sia stato il ferito presunto tale, visto che c'è stato veramente un violento impatto. Un scoterista sui 40 anni viaggiava in direzione Monte e dopo aver sorpassato la fila di auto che lo precedeva si è scontrato frontalmente con un mezzo che veniva dalla parte opposta e si è caduto sull'asfalto. Però insomma abbiamo visto che ha trovato la forza di rialzarsi e di fuggire. Ve ne diamo un'occhiata anche alle pagine di Pesaro dove l'apertura è dedicata ad una manifestazione che ha così si può dire iniziato tutta la serie di eventi che poi si svolgeranno durante l'estate. L'estate da Capitale, Capitale che ormai comincia anche quest'anno anche se formalmente il periodo di Capitale Nazionale della Cultura a Pesaro lo festeggerà il prossimo anno. L'estate da Capitale parte con il Sold Out, un pienone veramente di piazza del popolo. La mostra del nuovo cinema, un evento di carattere nazionale, attira tante tante persone. E stasera i concerti alla palla. Costantini, presidente di APA Hotels, dice il nostro omaggio ai turisti e ai pesaresi. Ebbene un sold out di pubblico sia per il film quando di Walter Beltroni presentato al pubblico dall'autore stesso, quindi c'era anche un personaggio importante, che è stato bissato l'altra sera con l'Evergreen Flashdance. E' stato poi restaurato questo capolavoro del film visto da tante tante persone. Possiamo dire che è un capolavoro perché ha suggestionato tanti giovani allora e continua a farlo anche oggi. Ebbene una serie di programmazioni che sta ponendo Pesaro all'attenzione appunto del cinema, di coloro che vanno al cinema a livello nazionale. E qui poi vediamo il cartellone non stop dell'estate perché la mostra del nuovo cinema di Pesaro che ormai si festeggia e si celebra, si organizza da diversi anni e inizia una serie di manifestazioni che attrarranno gente per tutta l'estate. Fino al 24 giugno durerà questo evento e poi si proseguirà con il Cater Raduno dal 29 giugno al 2 luglio. Dal 26 giugno al 2 luglio ci sarà anche la Festa del Porto. Dal 30 giugno la mostra su Lucio Dal alla Pescheria. Dal 3 al 10 luglio i concerti di Xan Italia. Dal 7 al 9 Pop Sofia. Dal 13 al 16 Ulisse Feste. Dal 18 luglio al 10 agosto Mira al Teatro. Dal 24 al 19 luglio l'angolo della poesia. E poi ancora dall'11 al 23 agosto il top delle manifestazioni con il Rossini Opera Festival. E poi continuano anche altre iniziative a settembre e ancora oltre. Quindi tante tante iniziative a Pesaro alle quali poi si associano anche tutte le iniziative, le manifestazioni, gli eventi che si svolgono nell'entroterra, a Fano e via dicendo. Una nostra provincia molto molto viva e molto attraente. Con le manifestazioni diffuse trasferte in borghi e quartieri. Al via una serie di iniziative e anche il Museo archeologico va in tour. Anche i quartieri appunto si organizzano. Vediamo anche quest'altro articolo che riguarda un fatto di cronaca. Che cosa è accaduto in questo caso? A Pesaro un gruppo di ragazzine organizza una festa tra di loro. Non ci sono altri estrani, quindi preparano una festa nella casa di una di loro. Ma questa notizia magari si sparge attraverso i social, c'è qualche vocifero che insomma s'allarga e vengono a sapere di quanto accade un gruppo di ragazzi. Che cosa fanno questi ragazzi? Ebbene si presentano in gruppo con una serie di bottiglie negli zaini, insomma birra e forse anche qualcos'altro. Si presentano in questa abitazione e vogliono entrare. Le ragazze resistono, non li fanno entrare. I ragazzi reagiscono vociferando, urlando dalla strada e poi con un lancio di bottiglie che prelevano da un contenitore del vetro che era nei pressi, non solo, ma incendiano anche un cassonetto. E qua vediamo proprio il cassonetto bruciato. Insomma hanno destato l'attenzione dei residenti i quali hanno chiamato le forze dell'ordine. Si imbucano la festa delle amiche, respinti, parte il lancio di bottiglie. Insomma una reazione veramente incontrollata per quanto riguarda questo episodio. In quest'altra pagina invece abbiamo un dibattito sul nuovo ospedale che la Giunta regionale intende realizzare a Pesaro. C'è un batti-ribatti tra Biancani e il consigliere regionale del Partito Democratico e con l'assessore all'edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, nuovo ospedale. Siamo nei tempi, cantiere al via per fine estate 2024. Non ci sono affatto ritardi, ha detto Baldelli, perché aspettiamo il nuovo codice degli appalti. Dal 1 luglio la Giunta a Quaroli ha colto anche l'occasione per poi non trovarsi impreparata con magari modifiche nelle procedure di assegnazione dei lavori. Cari Pesaro e UniURB formano esperti per intercettare i bandi più appetibili. Si tratta di un corso che mira a rispondere al bisogno di figure professionali in grado di aiutare le amministrazioni. Ebbene anche per presentare progetti e per raccogliere fondi occorrono persone preparate che sappiano veramente poi adempiere tutte le prescrizioni che la legge e le normative richiedono. A Urbino il Festival della Città Ideale stimola 400 artisti. L'evento da giovedì a domenica attraversa anche gusto, musica e filosofia. Un altro evento della nostra provincia che attrae persone, 400 gli artisti per un viaggio tra gusto, musica e filosofia grazie a un ricchissimo programma con spettacoli, musica proprio al centro della città ducale. Vediamo ora la pagina del resto del Carlino un po' ridotta oggi dato che è lunedì. Vediamo la prima pagina e vediamo che per quanto riguarda Pesaro si parla di strade dissestate. Un problema che ha evidenziato la senatrice Ilaria Cucchi che ha una casa dei pressi di Monte Labate e così difende una famiglia che si trova veramente in condizioni disastrate per quanto riguarda la viabilità. Ne parleremo poi nell'interno. Abbiamo la protesta di alcuni ragazzi che non hanno un punto in cui ritrovarsi e quindi non possono divertirsi e vengono stimolati magari ad andare in altre località fuori dalla nostra provincia. A Pesaro successo della Stradomenica oltre 100 bancarelle in centro e poi a Casinina un incidente purtroppo mortale. Malore in moto durante il giro con la comitiva muore a 69 anni un ex autista. Vediamo anche qualche articolo in Regione. La partita del cuore anche Cecchetto insieme per Senigallia per quanto riguarda la provincia di Ancona invece un malore in mare muore il professor Cappare per quanto riguarda la provincia di Ascoli. Fermo a Macerata. Pista ciclabile, 40 chilometri di polemiche in nodi Federcaccia e poi a Monte Cosaro il Papa gli telefona ho ricevuto i suoi canti grazie e complimenti. Papa Francesco meraviglia sempre per la sua umanità. Ed eccolo l'articolo che riguarda Ilaria Cucchi a Monte Labate strade dissestate da sempre e il Comune non risponde mai. La senatrice presenterà una interrogazione sulla viabilità che riguarda una famiglia. ho chiesto all'amministrazione comunale di intervenire ma ho ricevuto solo porte in faccia e risatine, pensate, ha detto. E poi il successo della Stradomenica eccolo qua in questo articolo è un'iniziativa che non delude tra mercato Alcarducci e Vintage e più di 100 banchi di oggettistica di tutti i tempi dislocati in piazzale Matteotti e il mercato è sempre una attrattiva di carattere turistico e inimitabile. Nel corso dell'anno questo mercato dalla terza domenica va abbastanza bene ci sono però anche qualche problema per quanto riguarda altre iniziative che dovrebbero essere incentivate. Sotto l'ombrellone tra i diciottenni qui a Pesaro non si fa mai niente ci tocca andare sempre a Cattolica ai bagni Re Sole i ragazzini non entrano in acqua per paura di non so che cosa hanno paura che l'acqua sia sporca che faccia male e che quindi provochi qualche problema. Un altro articolo Luca e Magdalena dicono sì sulla tolda del Cicaboba 2 matrimonio in mare per il figlio di Michele Cinquepalmi e chi ama le cronache rosa può leggere questo articolo ma a questo punto mi è scaduto il tempo per cui io chiudo i giornali e vi do appuntamento per la prossima rassegna stampa a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto a risentirci.